ma non la mano quello io là non ci sono arrivato ho fatto per metterla giù allora che mi butti giù si si no è meglio più difficile è questo no 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 se li hai dato sotto bene io sono arrivato corto là ho fatto per appoggiare sotto sotto basta mi prendi qua non mi è venire qua non mi prendi qua si io ti ho seguito a te se segui lui effettivamente un po' più no ormai sei su io ti ho visto a te infatti te stai facendo il circo così il pirlone come cazzo vai ma porca tratta si ma non tirate una micchia era su in bilico sul manubrio era su non tirate con il suo motore esperto fai che è riuscito a buttarmi giù guarda che vieni giù qua Mau che è meglio mettiti qua guarda che dagli tanto qua sotto non puoi cadere cadi lì in mezzo cadi lì in mezzo io ho sempre favore se gli si prenda qualcuno bravo mi metto qua perché la punti di lastra si appoggia contro la pietra e basta no ma se mi dai io vabbè ho deciso devo essere deciso io ho deciso No, 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 no. Dai Vito, dai Vito, dai Vito Dovresti conoscerla al fuoco, eh ma dipende da come la imbuchi eh, perché se la imbuchi che ti va lì giusta salti su, se no ti fermi anche se la conosci eh, vedi? Se la imbuchi che ti scappa, io ti scappo fuori eh.